Scusate ma ho avuto un piccolo battibecco con il tipo dell'ordine No sai perché ho paura che stia cercando di fregarmi E quest'oggi molto probabilmente lo scopriremo Bene ragazzi, quest'epni è bentornati nel quinto appuntamento della serie di Papers, Please! Sono tornato al lavoro e anche quest'oggi dovremo controllare tanti documenti, tante facce, tante persone Sperando di non combinare guai Paradiso criminale Arzosca si fa una nuova pessima nomea Spero che non sia per colpa mia 6 dicembre il Natale si avvicina, non vedo l'ora di iniziare a fare i regali o qualcosa di simile Ogni bollettino del giorno adesso presenterà al suo interno tre foto di tre criminali ricercati in questo periodo Dobbiamo stare attenti a non fare entrare dei delinquenti Tipo lei mi pare già una delinquente E che caspita subito la prima Aspetta un secondo eh Voglio solamente fare un piccolo controllino perché è bella mia Mi sa che era meglio se tu non fossi venuta Ciao ne! E la prima subito in gatta buia! Se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo iniziato veramente alla grande devo dire Questo viene in transito un paio di giorni Però non ha portato l'identificativo e quindi abbiamo un problema 88 kg il nostro amico Descrizione picco di vedova Che cosa vuol dire? San Marmero esiste? È nato l'11 giugno! Dieci anni prima di me! Oh mio dio! Sarà un caso che pesa 88 kg? Secondo me no Si può andare avanti E rivergatelo sto qui che ansia Il dono è stato un errore Ora il ministero dell'informazione indaga sul tuo legame con EZIC Prossimo agente in arrivo oggi risolverà il problema Rifiuta a tuo rischio Io non li vorrei rifiutare ma non so come caspita si chiamano Ciao bello alla prossima Questo viene a lavorare È un ingegnere quindi beccati il bigliettino E di conseguenza se è un ingegnere non può combinare guai Fidatevi di me Me ne rimane ancora uno Dobbiamo darlo eh Ciao bellina sono in transito Durata il soggiorno un paio di giorni Capelli lunghi Siamo sicuri di questa cosa? Sono raccolti quindi in teoria si Corrisponde tutto quanto Avevo a entrare C'ho ansia della persona che deve arrivare dall'ordine Criminale ricercato ammesso? Ma non è vero! Non era lei! Prego restituiscimi i documenti Ho sbagliato Chi è questo? Oh mio dio ma mi ha dato due passaporti Uno della colacchia e uno di Arzowska Ma per quale motivo? Non ha senso Psicopatico che non sei altro Guaiance Alexander Capelli a spazzola Mi sa tanto che non è così E invece si Però ho capito come fanno i criminali a entrare all'interno dei film Per colpa di persone come me A prova e avanti un altro Immigro in Arzowska Si bella mia Però prendi tutto il passaporto Sennò vai davvero da poche parti Fermi tutti Stephanie Grair È lei! È quella lì dell'ordine Boni meno male è arrivata Meno male ho controllato Mi sono ricordato che le ultime volte era stata Oddio che bello Per Arzowska e per l'ordine Bene 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 Ci prendiamo un cedolino Il passaporto mancante Non importa Sono un fallimento totale Io non dovevo lavorare a questo distretto Uè mister basettone A prova Entra pure Spero che la tipa dell'ordine sistemi il problema dei miei soldi Perché mi hanno tolto tutto Transito per Arzowska Due settimane Controlliamo tutto La scadenza del cedolino identificativo è domani Ma il peso non è conforme Non corrisponde Hai mangiato troppo per le feste bello mio? Oppure nascondi qualcosa in tasca Che cosa sono queste cose qua dietro? Abbiamo un problema Bombette esplosive Che cosa succede? Arresto È pieno di delinquenti alla frontiera È una roba incredibile Eccola L'ultima di oggi È di Arzowska Ma il peso non corrisponde Io mi accorgo di tutto Più o meno Non può essere una delinquente Anche lei è una signora così tranquilla Non ci si può più fidare di nessuno a questo mondo allora E che pizza Tre bombe Sei pure di Arzowska Io non ho parole È vergognoso tutto questo Ecco ho messo un errore Vieni vieni È così ovvio Beh che dici Pesi 4 kg in più di granate Avanti avanti Via 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 Stanno tutti bene in famiglia Il che non è affatto male Rivoluzione della chirurgia spinale Le migliori menti di Arzowska Dietro la scoperta Sede governativa evacuata A Paradizna E c'è il simbolo Dell'ordine Ecco i criminali di oggi Stavolta cerchiamo di stare attenti Mi raccomando Mi raccomando Step Polpillau Cinciampau Simpampau Pimpallera Campampau Va bene Morte ad Arzowska Oh Oh Raga Che devo fare? Oh mio Dio Mi ha dato una bomba Sto tipo Che succede? Come che succede? Oh ah tieni Prendi da te Cos'è questo schifo da dilettanti? Dobbiamo evacuare Per robetta così? Certo che no Disattiviamo Apri il coperchio Tiè Stupido terrorista idiota Non ha nemmeno messo lo schermo Cosa devo fare adesso? Questa è bomba peggiore che abbia mai visto Proprio da scemo Taglia fili in ordine giusto Ok Quindi uno Quindi due Quindi tre Quindi quattro Ben fatto Torniamo al lavoro Dobbiamo chiudere il presidio Tronzata Oggi devo guadagnare Dai bomba a me Prendo materiale Do per cento Che cosa t'è? Tieni ma i vendi la bomba Che ferraglia Io penso che non vale molto Chiama prossimo emigrato Ok Quante cose assurde che succedono Wagner Hans Diplomatico Il timbro però Mi sembra un pochino strano No? I diplomatici non hanno un timbro Purtroppo Quindi non so cosa fare Lo approviamo Dai No il cedolino Non aveva il cedolino Sono un coglione Perché me lo sono accorto Solamente dopo Mannaggia a me Autorizzazione di diplomatica Non trafatta E dove lo scopro Se non c'è il timbro Ingegneria Vai È l'ultimo di oggi Beccati sto bigliettino Non ho bisogno di altro Guarda Ti timbro subito A meno che tu non sia un delinquente Eh vabbè È troppo tardi Ormai è fatta Ciao bello Mi raccomando Non combinare guai Sennò qui mi tagliano la testa Questa raga è fattissima Guardatela in faccia Mi sembra coincidere tutto quanto Eccetto la scadenza Del tuo passaporto Oh che peccato Non ti posso fare entrare L'ho appena rinnovato Mi sa tanto di Non rifiuta Pensano di fregare Stepney Il re degli ispettori Ma si sbagliano Ari eccolo questo qui Ari è madre A me i documenti in codice Tieni Ari Pigliati Non le voglio più Via 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 Sgomma Mi ha già rotto le scatole Un altro bigliettino E basta Un solo agente approvato Vittoria impossibile Senza il tuo aiuto Il ruolo dell'ordine È immutato Dalla nascita della Sosca Quando la tirannia Firina Sbagliremo di nuovo Ok Che cosa ti devo dire Non posso fare altro Viene a trovarmi un po' troppo spesso È strano che la guardia Non pensi che tipo Potrebbe esserci una truffa O cose simili Sembri in regola Puoi andare Lui è già entrato Un paio di volte In questi giorni Io non dimentico Mia presenza è richiesta E beh come faccio A capire Se è tutto ok No 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 Un corno Il codice è sbagliato Mi stavo distraendo Meno male Ti arresto va Puoi anche andartene Io le voglio guardare in faccia Quando capisco Che sono falliti per sempre Ehi Io proprio te Stavo aspettando Io voglio transitare per Arsosca Fatemi venire nel vostro paese A fare il delinquente Te lo scordi Non ho niente da dire Te lo dico io qualcosa Tanti auguri ai figli maschi A casa Sto arrestando un casino di persone Dove sono le mie mazzette? John Lennon Canawang Pensi di fregarmi? Non so perché Ma questo qui mi puzza E infatti Il timbro è al contrario Volevate fregare il sottoscritto Ma vi siete sbagliati di grosso Non capisco perché Oh Tutti in carcere Tra un po' c'è più spazio Ragazzi non sanno più dove metterli Bertrand Jacob Direttamente da casa nostra Paradizna esiste? Esiste come? Quindi va tutto quanto bene Che bello quando corrispondono tutti i dati Ti senti al sicuro Ah ah Mister Baffo Vengo a vivere con la mia moglie E ora lo decido io Questo per esempio È scaduto Ma da un bel pezzo Identificativo È passato quasi un mese Avevo da fare E non è un problema mio Cioè per quanto mi riguarda Te ne torni a casa La prossima volta preparati meglio Qui c'è già qualcosa che non torna Dice che è femmina Ma a me pare un uomo Quindi controlliamo subito Perché mi fai questa domanda? Perché c'è scritto Sei una femmina C'hai la faccia da uomo Devo controllare Se hai le tette Un bel culo A quel punto Eh no Non ce l'hai purtroppo Ragazzi Che facciamo? Ti arrestiamo? Direi proprio di sì Io non capisco perché c'è un errore nei documenti Ma perché gli fanno scrivere femmina Se sei un uomo Errori stupidi e banali Se io facessi il delinquente Sarei molto più attento a tutti questi piccoli dettagli La nostra amica arriva da Arzowska È un po' troppo alta però Non sbaglio? Sì che mi sbaglio Mi sbaglio sempre Tiè a prova E andiamo avanti Un'altra giornata è finita Un solo cedolino Un applauso a Stepney Il ministero dei redditi Ti ha prosciolto da ogni accusa I tuoi risparmi non verranno restituiti Eh? Questi qui E i mille dollari di prima che fin hanno fatto Sì i mille crediti Consolidamento e trasferimento al confine Ministero in lotta per il personale Penula di soldati e guardie esperte C'è stato il cambio della guardia Non dirmi che è tornato Ibra Ti prego Ibra Ibra Sei tu? Non sei tu? Non è lui La chiave in dotazione dà accesso a un fucile di tranquillanti Allo scattare dell'allarme Ma che è sta roba? Quando suona l'allarme Questa chiave Ci sarverà la vita Che è successo? Oh mio dio Hai arrestato 10 persone Ecco i soldi Sboom Solo 10 Solo 20? Molto di più? No Hanno spostato la guardia della prigione Lascia i soldi che ha da tua notte Sì notte no Maledizione Se ne va via la guardia Non c'è più nessuno a proteggermi adesso Beh mi sembra tutto quanto in regola Iniziano un po' a mancarmi gli attentati terroristici Devo essere sincero Oh guardalo Questo assomiglia tanto a un nostro vecchio amico E tutto quanto combacia Avanti all'altro Via Colechiani Allo sbaraglio È dalla colechia Non ha già messo il documento Quindi abbiamo già da ridire qualcosa Io ti prego Intervento che serve Vietato in colechia Comunque non mi fido di dottori laggiù Solar Sosca Chirurghi bravi 10 crediti Un ammonimento Boh Sinceramente non so se ne vale la pena In realtà I soldi lui ormai me li ha dati Io li tengo qua Facciamo così Non è l'identificativo Quindi c'è qualcosa che non torna Non danno i documenti per la Non mi interessa Non mi interessa Lo capisci? Se non esibisci il permesso di entrata Non ti faccio entrare Bello mio Cazzo i tuoi Grazie per i soldi Alla prossima Io non so quanto sopravvivo Ma a te non importa No ora mi fai sentire in colpa Però No spero che tu mai finisci Il possibile No Mi spiace Però 10 crediti fanno comodo Fidatevi La professoressa McGranit C'è il codice del passaporto Che non torna Di che cosa stai parlando? Del tuo arresto Bella mia Ci vediamo dall'altra parte Sono tornato Quanti ingegneri hai incontrato? Ho avuto 4 chiamate 3 ingegneri civili Inutili A me serve meccanici Ho detto ma va bene tutto Ultimo era buono Grazie per aiuto Tutto sto casino Per 20 crediti Oh mio dio Sì siamo ricchissimi Eh lui è un ingegnere Non può fare il delinquente Mi aveva promesso 5 crediti a bigliettino E io ho dato 4 bigliettini Guardate quanti soldi Quante mazzette raga Prima o poi mi distrarrò di nuovo Io lo so Non arrivano più persone ricercate Io mi stavo divertendo C'è troppa roba da controllare ragazzi E' poco tempo per farlo Oh oh No 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 Boni 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 Ci penso io Ci penso io Boom Into the face Che c'è qui? Face step Stepney So troppo forte ragazzi A terra Bonus cecchino 20 dollari Pim 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 Cari amici Questa giornata di lavoro Termina così Con una bella sparatoria In bello stile step Indirettamente da fortnite Pim L'ho colpito in testa Spero che il video vi sia piaciuto Se così è stato Cliccolate Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Se ancora lo fate iscrivervi al canale Non ci sono piaciuti i prossimi video Qualcamente Qualcuno ha lasciato nella mia stanzetta Della dogana Questo bigliettino Con scritto Culo Allora se vi piace Prendermi Per il culo Ditemela in faccia Le cose Maledetti Sono ricco sfondato adesso Pieno di crediti